Buongiorno a tutti, buongiorno amici, amici di I am Mr.Blogger Badriani, questa è la mia faccia, il giorno dopo, la meravigliosa vittoria di Bergamo, il 5-0 è vendicato, caro Gasp, perché ti abbiamo giocato in faccia, ti abbiamo giocato in faccia, e ha ragione Pioli, infatti questo video sono analisi e pagelle. Questa partita è anche più importante di quella di maggio dell'anno scorso, perché lì avevamo sofferto, ma avevamo segnato sul rigore che tra l'altro c'era, e Gasp ha vomitato schifo, sia oggi che sia ieri, che l'altra volta, sbagliando al cazzo di cane. Ma Gasp si lamenta solo col Milan, perché gli voglio ricordare, al caro Gasp, Gasperini salta con noi, Gasperini salta con noi, Gasperini salta con noi. Ma non so, gli voglio ricordare che il layout sul terzo vuoto non è in fuorigioco, in fuorigioco erano Rebic e Teo Hernandez, ma non partecipano all'azione. Quindi, a ripasso il regolamento, e rompi le palle solo col Milan. Ma ieri, caro Gasper, il 5-0 l'abbiamo vendicato, perché ti abbiamo giocato in faccia, e se non era per di bello, che ti faceva fare due gol. Altro schifo arbitrale, siamo stufi, eh? Tu perdevi 3-0, senza colpo ferire. Ieri abbiamo fatto male, malissimo, all'Atalanta, nelle ripartenze, e nei suoi punti deboli, l'ho detto anche ieri. Ma, ma, parliamo, partiamo con le pagelle. Magic Mike, P.E. Baracus, Mike Mignon, Allegria! E poi un giorno vi spiegherò perché canto questa canzone. Quando vedo Mike Mignon, ma ieri, 7, 7 e mezzo, tranquillo, sul gol incolpevole, ha fatto 3 parate spaventose, 3 parate spaventose. E, e, deve andare nella classifica di Sport Mediset, perché se lo merita, quindi, veramente, poi, coi piedi, gioca meglio di chi abbiamo indegnamente lasciato. Di chi è indegnamente scappato. Lui è il suo procuratore. E quindi abbiamo un grande portiere e ce lo godiamo. La difesa. Tomori e Kier. Avete visto Kier contro Zapata? Come si spinge, come dice il mio mister Rocco Melchiorre, quando la punta, non deve respirare. Come si spinge? Come ha fatto Bonucci con Lukaku? Così ha fatto Kier con Zapata. Se non li fai girare, eh, li puoi anticipare. Ma se li fai girare, come fa Romagnoli, quelli prendono un metro e ti vanno a purgare. Eh, eh, se fosse anche ora che Romagnoli lo capisse. Comunque. Sette per Kier e sette e mezzo per Tomori, che ha tenuto a bada gli altri attaccanti dell'Atalanta. Otte e mezzo per Calabria. Gol dopo trenta secondi. Al momento giusto. Nel posto giusto per raccogliere l'assist dell'altro nove. Teo Hernandez. Teo Hernandez. Meraviglia, Super Teo. Meraviglia, Super Teo. Veramente. Nel ruolo, come l'ha messo Pioli a spaccare la partita in intermedio di centrocampo. Gli ha letteralmente fracassati. Gli ha letteralmente fracassati. Non lo prendevano una volta. Non lo prendevano una volta. Neanche con i falli, perché ci hanno provato pure con i falli. Benasserre e Tonali. Nove e mezzo. Ma, mancini. Finalmente l'hai convocato. Però, mi sono rotto le palle che usi i milanisti per tappare i buchi. Basta. I milanisti non sono i tappabuchi tuoi. I milanisti sono titolari, quelli italiani. Basta che devono fare i tappabuchi. Perché se devono fare i tappabuchi, caro mancio, preferisco tenerli a casa. Preferisco tenerli qua. Comunque, Tonali ieri spavendoso, meraviglioso, meraviglioso. Come ha rubato quel pallone a Freuder. Ma la bestialità che ci mette ha svoltato in tutto. Ha svoltato in tutto. E ora ce lo godiamo. Abbiamo aspettato. Abbiamo incugitato schifo. Ma ora ce lo godiamo. Ora ce lo godiamo. Frank che sì. Frank che sì. Sette. Sette perché ancora qualche strappetto. Ancora qualche problemino. Però ieri ha ingacciato il turbo. Ha cominciato a menare. Ha cominciato a sgroppare. Tanta roba ieri, Frank. Bisogna dirlo. Sale Makers. Solito doppia fase. Ormai quello è un must. E ieri magari si schiacciava bene quel pallone. Invece di schiacciare lo centrale. Sul cross di Rebic. Mannaggia la miseria. Poteva essere addirittura 4-0. Ma era volere troppa crash. Però, però. Però. Bene anche i Sale Makers. Brahim. Brahim ieri. Gli da un bel 6 e mezzo. Perché ha fatto il solito sgroppato. Ha fatto il solito dopo. Anche lui. Lavoro. E' tornato indietro. Lo ripartiva. E' uscito che era stremato. E non ce la faceva più. Quando è uscito era veramente finito. Perché sotto e sopra. Accelera. Riparti. Fai. Dici. In bosta. Fai il doppio mazzo. Riparti. Poi riaccelera. Poi slalomizza. Prendi le botte. Insomma. Grande partita di Brahim. Sostituito da Messias. A cui te lo vediamo l'insufficienza. Per aver preso un rigore. Ed essersi fatto calpestare da Zapata. Ma lo schifo di Di Bello. Ha rovinato una partita perfetta. Quindi a Messias. Dò comunque un 6 e mezzo di incoraggiamento. Che è entrato. Valutouré. E. Pellegri. Che sono entrati. Senza voto. A tutti e due. Diamo un 6 per stimolo. Rebic. Rebic. Dò un bel 7 e mezzo. Perché ieri ha fatto veramente il lavoro sporco. Non ha segnato. Però è come se avesse segnato. Perché ha sgomitato. Ha lottato. Ha fatto casino. Si ha fatto vedere. Non si è appiattito. Insomma. Una grande partita. Ma ieri riparisco. E chiudo. Che oggi il giorno dopo è ancora più bello. Sputtanare il gaspo. Sputtanare De Ron. Che guarda caso. Non scrive niente. Zapata. Oggi non scrive niente. Siete morti. Eh. Vabbè. Comunque. Comunque. Oggi è ancora più bello. Perché ieri. Abbiamo dato un segnale. Perché vincere a Bergamo. In quel modo. Prima dello schifo di Di Bello. Che si è inventato un rigore. E non ha fischiato. Il fallo su Zapata. Su Messias. E ribadisco. Quello che dico da tanto tempo. Basta. Fare lo stile Milan. E non parlare di arbitraggi. Perché poi. A noi ce lo mettono in quel posto. Non agli altri. Che usufruiscono. Dello schifo. Di Andanovic su Berasu. Su De Vrel. Aperto in chiusa parentesi. Quindi. Ieri. Grande vittoria. Cioè io sto ancora. Godendomi di Highlights. Perché. Perché veramente. Ieri. È stata una. Una prova di forza. Cioè. Il vincere su quel campo. È segno che se rimaniamo in undici. Se non ci cacciano qualcuno. Noi possiamo battere a chiunque. Se ci fanno. Non fanno schifo arbitrare. Noi qualcosa quest'anno lo vinciamo. Non so che cosa. Io. Ho il contrario di Tonani. Voglio la Champions. Perché per me la Champions. Vale più di qualunque cosa. Sulla faccia della terra. Però. Però. È il più obiettivo realistico. Cioè. L'obiettivo minimo. È la Champions. L'obiettivo. Diciamo. Non dico possibile. Ma. Da provare a lottare. Lo scudetto. Il sogno. Per me. È la Champions. La Coppa Italia. Se viene. Sono felice. Ma. Non mi strappi i capelli. Però almeno. Vinco qualcosa. E non riesco a zero titoli. Questa è in brillo del mio pensiero. Sulle varie coppe. Però. Ieri. Abbiamo dato una dimostrazione a tutti. Perché a Bergamo. Non si va a vincere. Come abbiamo fatto noi. Giocando a pallone. In faccia all'Atalanta. Che è una delle squadre. Che gioca il miglior calcio. Forse in Italia. Insieme con noi. E qualcun altro. Quindi. Quindi. Ieri. Il Milan ha dato un segnale. Ci può agliù. Anche a Napoli. Noi. Se ci rimaniamo in undici. Se non ci fanno schifo arbitrale. Vi facciamo male. Vi facciamo male. Con Rebic. Con Leao. Con le ripartenze. E c'è Giroud. E zio. Ai box. Allora. Questo. Lo chiudo. Per. Non passiamo. Tutta la sosta. A farci rompere il cazzo. Eh ma. Il messo di Milan. Gioca meglio. Senza i primi. No. Non cadete nel trappolone. Che vanno a destabilizzare il Milan. Dicendo che Ibra deve andare via. Ibra deve restare. O se no. Nei momenti difficili. Facciamo schifo. E torniamo a fare schifo. E torniamo. In undicesima posizione. Zio deve restare. Perché il Milan. Può giocare bene. Sia con. E l'ha dimostrato. Che senza. Ma io preferisco con. Aperto e chiuso a parentesi. Perché. Delle magie di zio. Io voglio abbeverarmi alla fonte. Il più possibile. Di quella bestialità innata. Quindi. Lo voglio a piene mani. E aspetto con anza il recupero. Da questo stramaledetto infortunio attendi. Quindi. Questo è. Questo è. Non passiamo tutta la sosta. A farci rovinare il fegalo. Ma dire. No. Il Milan deve vedere via Ibra e Vecchio. Passiamo oltre. Tanto giochiamo bene lo stesso. No. Zio ha ben chiara. Il suo ruolo nel Milan. Di motivatore. Giocatore. Uomo spogliatoio. Capobranco. Bestialità. Profusione. E in campo tranquilli. Che ci ritorna. E non ha ancora voglia di smettere. Quindi. A proposito. Happy birthday. Bestialità. Super Saiyan. Mio mito. Voglio conoscerti tramite. C'è posta per te. Per ringraziarti. Di aver salvato il Milan. Dalla morte. E dallo schifo. Di Ralf Radnick. E altra immondizia. Quindi. Quindi per questo. Non mi fate passare tutta la sosta. A rompere il cazzo. Giochiamo meglio senza Ibra. Ibra no. È vecchio. È finito. Non rompete i coglioni. Perché se Ibra non se ne va. Torniamo a fare schifo. Quindi. Ibra serve come il pane. Come il pane. Se ne pensate. Mettete un like a questo video. E ditemi cosa ne pensate. Della partita di ieri. Promossi. Bucciati. Non ce ne sono. Da chi siete rimasti più sorpresi. Cioè. Chi vi ha sorpreso di più in questo inizio di stagione del Milan. Io. Tonali. E. E. Mignon. Che aveva qualche remora. Che potesse. Così. Impattare. Sul nostro Milan. Tra. Tonali. Che è veramente esploso. E io. Abbiamo detto. Aspettiamo. Che bisogna aspettare. E abbiamo raccolto. Vi chiedo. Ditemi voi. Chi ha. Impressionato di più. In conclusione. Sempre. Magliette che in calcio. Io le indosso sempre. Per uscire. Per giocare. Per fare. Oggi poi. Dopo una meravigliosa partita di Iè. È ancora più bello. Ciao a tutti.